Musica Buongiorno ragazze, questa è la Nell'Art che vi propongo oggi Nell'Art molto speciale perché il 20 settembre compro gli anni quindi questa è la Nell'Art dedicata al mio compleanno ragazze, io spero che la Nell'Art molto semplice vi piaccia vi lascio ai prodotti e al tutorial Musica Allora, io ho già applicato la mia base protettiva su tutte le unghie e su tutte le unghie tranne l'anulare ho già realizzato una French con lo smalto letterato ora prendiamo un colore per volta andiamo a scaricare il pennello dal colore dopodiché lo andremo a strisciare sull'unghia Musica adesso andiamo a stendere il top coat su tutte le unghie e senza farlo asciugare andiamo ad applicare micro perle e paillettes Musica 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 Ecco fatto ora lasciamo asciugare ecco fatto ragazzi questa è la Nell'Art completata io ho già applicato il top coat su tutte le unghie ragazze io spero che vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video ciao Musica 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 Grazie a tutti.